Tra i vari accessori che abbiamo comprato in quest'ultimo periodo, una cosa che non riesco a togliermi proprio di dosso, sono queste cuffiette. Quindi oggi recensiamo le cuffie della M-Pov. In tanti mi avete chiesto che cosa avevo al collo, che cos'era questa roba che avevo sempre addosso. Sono le nuove cuffiette della M-Pov che ho comprato su Amazon per il semplice motivo che erano in sconto. Maledetto Amazon. Quindi ho deciso di acquistarle perché avevo rotto le mie. Ho sempre bisogno di cuffie Bluetooth perché sono sempre multitasking. Come sono strutturate? Sono strutturate in questa maniera qua. Innanzitutto sono delle cuffie in-ear, quindi vanno a finire all'interno dell'orecchio. Questo aggancio di gomma serve per andare a fissarlo all'interno del padiglione auricolare per non far scivolare l'auricolare dall'orecchio. Tant'è che vengono utilizzati anche per la corsa. Ci sono più tipologie di gommini a seconda della tipologia di orecchio che vi ritrovate, che avete voi. Entrambe le cuffie sono strutturate nella stessa identica maniera. La cosa che è differente tra la cuffia destra e la cuffia sinistra è che sulla cuffia destra abbiamo il buco, eccolo qui, per la micro USB per la ricarica degli auricolari. Ricarica che mi dimentico di fare perché durano talmente tanto, non ho un quantitativo in ore, ma vi garantisco che sono infinite, veramente. Il miglior acquisto che abbia fatto nell'ultimo periodo, se state cercando delle cuffie auricolari Bluetooth, potrebbe essere la vostra soluzione. Se non sapete dove trovarle, sotto in descrizione trovate il link per l'acquisto. Hanno anche questi comodi gommini, vediamo se riesco, eccolo qui, qui, che vi permettono di non avere tutto sto fastidio all'orecchio, perché io sulle cuffie in here sono sempre stato molto scettico, ma vi devo dire che invece no, mi piacciono molto. Sempre sulla cuffia destra, andando lungo il cavo, troviamo il telecomando della cuffia stessa. Un telecomando che ci permette di bindare la prima volta, quindi di collegare il telefono, piuttosto che il computer o quello che utilizzate, con gli auricolari. I tasti volume, che servono appunto per alzare e diminuire il volume. Con il tasto centrale è anche possibile rispondere alla telefonata, mettere giù la telefonata, o eventualmente con un double tap, quindi con un doppio clic, c'è la possibilità di richiamare l'ultimo numero. È la prima volta che faccio una recensione di un paio di auricolari, mi rendo conto. Quindi non è che abbia tutte queste cose da dire, se non condividere con voi la soddisfazione che ho avuto nel utilizzo. Notate che quando le mettete al collo, adesso io non ce l'ho perché l'ho perso, ma c'era un aggancino che vi permetteva anche di tenerle fissate tra di loro. L'unica cosa che secondo me potevano fare, potevano fare una cosa magnetica che si attaccava così e rimanevano attaccate. Ecco, l'unico difetto, se vogliamo trovargli un difetto. Quando le mettiamo nell'orecchio, nell'orecchio vanno messe, vediamo se riesco a mostrarvelo in questa maniera qua, e ruotate, di modo che rimangano fisse all'interno del padiglione, sia di qua che di qua. Ovattano completamente l'audio esterno, quindi anche se c'è confusione è perfetto per fare una telefonata, perché inserite la seconda cuffia e non sentite praticamente più nulla di quello che ci sta attorno. Quando guido non utilizzo entrambe le cuffie perché non si può, ma se sto lavorando e ho, che ne so, Katia a fianco che sta lavorando anche lei, con queste cuffie non sento assolutamente nulla. Dicevo, la cosa buona è che quando le avete su entrambe, il microfono, che è posizionato qui sotto, sempre dove c'è il telecomandino, il microfono è a una distanza buona e ci permette di non avere neanche disturbi, perché la tecnologia che utilizza, di cui non mi ricordo sinceramente il nome, però la tecnologia che utilizza tiene solo ed esclusivamente la voce vicina e allontana tutti gli altri rumori di fondo. Sono soddisfattissimo di questo prodotto, quindi lo pubblicizzo sul mio canale YouTube. Un saluto a tutti quanti, iscrivetevi al mio canale, cliccate mi piace su tutti i miei video, un saluto, baci, ciao, 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 ciao.